Musica Buongiorno e benvenuti alla rassegna di stampa di oggi di mercoledì 18 novembre 2015 Buongiorno a tutti e ben ritrovati Allora cominciamo come sempre dal santo del giorno Oggi ricordiamo la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo Il sole è sorto alle 7.05 e tramonterà alle 16.41 minuti Il tempo avremo cielo nuvoloso con temperature in lieve diminuzione I venti di brezza leggera da meridione Il mare sarà quasi calmo E attenzione alle foschie e le nebbie durante le ore notturne nelle zone costiere e nei fondovalle Avremo due giornate da qui al prossimo venerdì praticamente identiche Vedete soltanto venerdì saranno assenti le foschie, le nebbie E dunque ci saranno temperature ancora in lieve aumento Poi c'è una variazione del tempo invece a partire dalla giornata di sabato Quando l'approfondimento di una saccatura metterà fine alla situazione di blocco anticiclonico Quindi di bel tempo Determinando invece un rafforzo dei venti sud occidentali Ed un con successivo calo delle temperature Calo che sarà anche piuttosto sensibile Quindi addirittura ci sono dei siti che parlo di 10 gradi in meno Rispetto a quello che stiamo sentendo e che stiamo avendo in questi giorni Allora premessa è cambiata Abbiamo fatto un aggiornamento con il nostro sistema Il nostro touchscreen quindi lo abbiamo ulteriormente potenziato Con nuove funzionalità e quindi come sempre quando c'è qualcosa di nuovo E quando cambiano un po' le cose nel nostro specifico Insomma nel nostro specifico ci sono dei pulsanti diversi, delle cose diverse Quindi vi chiedo scusa se questi primi giorni saremmo un po' impacciati Ma insomma cerchiamo di fare del nostro meglio Allora cominciamo dalla cronaca E andiamo sul resto del Carlino Un sms erotico ha messo nei guai un cinquantenne della provincia di Pesaro Anzi un cinquantenne di Pesaro Un uomo che vive da solo, un single Che lavora nel settore dei servizi E che ha finito sotto processo al tribunale di Urbino Perché ha fatto proposte esplicite ad un ragazzino di 13 anni Residente appunto nei dintorni dell'Urbinate Questa è la notizia che troverete sulla pagina di Pesaro del Carlino di oggi Su quella di Fano invece La notizia di una donna di origini marocchine Che ha partorito in auto a pochi metri dall'ospedale A pochi metri dalla Santa Croce Senza l'aiuto di un'ostetrica E di un ginecologo Poi ovviamente sono arrivati tutti nel soccorso Ieri abbiamo trasmesso anche l'intervista al primario Cicoli Che ha raccontato un po' come sono andate le cose Questa piccola sta bene Pesa 3,5 kg Insomma è andata bene per questa donna Che ha il suo terzo figlio Ha partorito, possiamo dire, nel parcheggio dell'ospedale Il suo terzo bimbo Oggi invece alle 15 a Lucrezia Si terrà il funerale di Selli Selena Cani Oggi poveriggio nella chiesa di Santa Pollinare Lucrezia Selli, la giovane deceduta Giovedì scorso dopo tre giorni di agonia Per le ferite riportate nell'incidente in superstrada Avrebbe compiuto 22 anni ieri Se un tragico destino non avesse scelto invece per lei Purtroppo diversamente L'altra pagina invece dal resto del Carlino Sulla sanità, sanità bollente Sul sito, il sito dove costruire il nuovo ospedale C'è questa diatriba tra Pesaro e Fano Fano propone la località Chiaruccia Pesaro invece è un altro sito La regione ha detto Se i due sindaci non si metteranno d'accordo Decideremo noi e così sarà E molti adesso dicono Tutto è deciso Questa è soltanto una sceneggiata L'ospedale verrà realizzato a Pesaro Fronte unito dunque per il sito dell'ospedale Anche i socialisti preferiscono Chiaruccia I socialisti sostengono evidentemente Il loro pupillo Che è il sindaco attuale Massimo Seri Il segretario Mirco Pagnetti Dice la soluzione migliore appunto è quella di Chiaruccia Quindi massimo appoggio a Seri Finalmente un sindaco che batte i pugni sul tavolo Per dare dignità alla città L'altra pagina invece del Carlino Parla di un nuovo gruppo Narcotici Anonimi Che è nato a Fano Un gruppo in regione Ascolto e percorso per essere liberi Aiutiamo chi ha problemi con le droghe Martedì, giovedì e domenica Nei locali della parrocchia Gran Madre di Dio Ci sarà questo incontro Sul ponte d'Urbania Niente divisioni Questo ponte che ormai è chiuso da diversi mesi C'è l'appello del sindaco di Urbino Maurizio Gambini Che trova ospitalità sul giornale Questa mattina bolognese Con un suo articolo Ceriscioli si impegna a trovare subito i fondi Serve un'opera Un'opera temporanea Per canalizzare il traffico E contenere le difficoltà L'ultima pagina riguarda invece La situazione del terrorismo Anche nella nostra provincia L'intervista al prefetto di Pesaro Luigi Pizzi Il terrorismo si batte Dice anticipandolo Decisiva sarà l'attività informativa Il punto del prefetto Dopo i fatti di Parigi Tra l'altro mentre stiamo andando in onda C'è un altro blitz in corso Ma non cambiate canale State lì Siamo preparati La vita quotidiana dice Spero non cambi Che resti quella Vogliamo dare la stessa libertà di movimento E fruibilità di servizi Che c'erano prima Le telecamere Nelle banche Stiamo esaminando Proprio in questo momento L'elenco delle filiali E le loro difese passive A chi non le ha Chiederemo comunque Di dotarsene Quindi di installarle Andiamo adesso Sulla pagina di Pesaro Invece del Corriere Adriatico Soccorsi Gli autisti Con il contratto Dei tassisti Conducono le ambulanze Ma non fa differenza Notturni E straordinari Forfettizzati Grazie Ad uno strano Integrativo Anche Nella vertenza In corso Con la Solaris I lavoratori non sono tutelati Dai sindacati Della funzione pubblica L'altra pagina Quella di Pesaro Turismo Il flop degli spot Andreoli Consigliere comunale di Pesaro La campagna mediatica Del sindaco Matteo Ricci Ha dato visibilità Solo a lui L'altra pagina Quella di Fano Invece A centropagina Il Codma Codma di Rosciano Dove tra l'altro Domenica ci sarà Sapori e Romi D'autunno Il Codma È lasciato nel degrado Si intervenga Per porre rimedio Sistemare un po' La situazione Il presidente Della Proloco Fa una fotografia Impietosa Su quello che Quelli che sono Gli avvallamenti La sporcizia Dei piccioni Che sono presenti Tutto l'anno Insomma Ecco Questa è la situazione Del Codma Fragomeno Segnala anche Problemi igienici Per l'organizzazione Appunto Di fiere e mercati Come sarà quella Come dicevo Pocanzi Che prenderà il via Domenica Proprio lì Al Codma Di Rosciano I carri armati Questi carri armati Che impazzano Passano da una stazione All'altra In giro per l'Italia Vengono fotografati E postati su Facebook Sui social network E naturalmente Vista la situazione In cui ci troviamo Che stiamo vivendo Con questa guerra Così Che c'è Al terrorismo Adesso Molti Temono Semplicemente Vedendo Magari prima Non ci si faceva caso Perché in realtà Appare che questi treni Carichi Di carri armati Viaggino Regolarmente Un po' Tutto l'anno Soltanto che adesso Ci si fa caso Questa è probabilmente La differenza sostanziale Comunque il caso Finisce in Parlamento Ci finisce Perché L'Ara Ricciatti La deputata L'Ara Ricciatti La fanese L'Ara Ricciatti Ha chiesto Ha chiesto Di essere informata E di Soprattutto Di informare la gente L'opinione pubblica Perché Insomma Non si faccia strane idee Quindi capisca un po' Il perché Il per come Di questi carri armati In viaggio O fotografati Un po' Nelle varie stazioni italiane Tensioni politiche Invece Il PSI Ora sfida Il PD Pagnetti Elenca i criteri Che favorirebbero Il sito di Chiaruccia Ruolo ambiguo Minardi Finisce Sotto accusa Il messaggero Per chiudere la rassegna stampa Siamo di nuovo a Pesaro Baia Flaminia Anche il consiglio di quartiere Dice no Alla spiaggia Per i cani Dopo la contrarietà Della sovrintendenza C'è un nuovo parere negativo Al piano del comune Arenile Cementificato Sarà uno scempio L'altra pagina Invece Si parla di sicurezza Più di 70 telecamere Attive a Pesaro Il sindaco Dopo i fatti di Parigi Va tenuta Alta la guardia Prevista l'assunzione Di 7 agenti Di polizia municipale Altre 10 Apparecchiature Di sorveglianza Si aggiungeranno Alle 62 Già esistenti 4 installate Sugli ingressi E sulle uscite Della 14 Occhi tecnologici Anche sulla statale All'altezza di Cattabrighe E su via Solferino Nella strada Delle Marche La fusione Monbaroccio Adesso rischia Di perdere L'assessore La nomina Sarà discrezionale Da parte del sindaco Non più obbligato Nella formazione Della nuova giunta Mentre Sulla frana Di via Kennedy Viale Kennedy A Orciano Si parla Delle cause E dei lavori Se ne parla In consiglio comunale Che si riunirà Questa sera Appunto Ad Orciano Chiudiamo con la pagina Di Fano Del messaggero Ospedale In primo piano Il centro-sinistra Fa quadrato Attorno a Massimo Seri In maggioranza Contro il manifesto Udc E Progetto Fano Che ironizzava Hanno realizzato Questo manifesto Un po' come se fosse Il manifesto Di un film Dove parlano Di attori Non protagonisti Come il sindaco Appunto Massimo Seri Di regia Eccetera Eccetera Insomma La maggioranza Dunque Fa quadrato Attorno al sindaco Marcheggiani Smentisce L'ipotesi Di una clinica Privata Al posto De Santa Croce Nulla È venduto Assicura E mai Lo sarà L'ultima notizia Sempre dalla pagina Di Fano È pubblicata In fondo Muore a Bologna Una studentessa Di 19 anni La famiglia Originale Della zona di Fano E vive da qualche tempo A Fermignano Con questa notizia Noi ci fermiamo qui La rassegna stampa Torna naturalmente domani Vedete intanto La regia ci propone L'avviso Il cartello Che questa sera In diretta Qui sul canale 17 Di Fano TV Dopo il telegiornale Occhio alla notizia C'è primo cittadino Ospite Il sindaco di Sienigaglia Maurizio Mangialardi Per intervenire I numeri Li vedete In sovraimpressione Ed è tutto Buon giorno Buon giornata E arrivederci